E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come ho interetto dal titolo andremo a recensire la lancia di Polaris Fucile da ricognizione esotico aggiunto con la mente bellica Per chi non lo sapesse per ottenere questo fucile bisogna completare la quest esotica al bencipiente che ci darà Anna Bray alla fine della campagna Il perk esotico di quest'arma recita I colpi precisi ripristinano i proiettili nel caricatore e il quinto colpo preciso è caricato a solare e a scoppio ritardato Purtroppo questo perk trova un'applicazione soltanto per quanto riguarda il PvE In quanto l'arma fa 56 danno in testa e 40 al corpo Quindi in PvP non riusciremo mai a tirare un quinto colpo preciso In generale però appunto per quanto riguarda il PvP l'arma non se la cava male dalle lunghe lunghissime distanze Anche se va necessariamente accompagnata da un'arma che compensi dalle corte distanze Per quanto riguarda il PvE invece questo perk potrebbe essere veramente molto utile soprattutto contro il boss In quanto il fucile è già ad alto impatto e appunto grazie al perk riusciva a infliggere maggior danno con il quinto colpo E non c'era nemmeno bisogno di ricaricare in quanto i colpi precisi ricaricano i proiettili nel caricatore Il rinculo di quest'arma è medio basso ma per quanto riguarda il crogiolo Quel giusto che ci aiuta a tornare in testa una volta infligto il colpo La velocità di ricarica invece è medio alta Come ho detto è un fucile alto impatto Una cadenza di 150 colpi al minuto quindi abbastanza bassa per la ricognizione Una agitata veramente veramente molto alta e un caricatore da 14 colpi In generale direi che quest'arma è abbastanza buona Ma sicuramente non una delle migliori Per quanto riguarda il PvE probabilmente sarebbe più utile un mezzanotto senza nome Mentre per il PvP penso che un coniugiada riesca a sovrastarla Quindi ragazzi questa è l'alarma Io direi che se il video è più stato utile lasciate like, commentate, condividetelo Tutti quelli che non conosciete che non conosciete che c'è la trallissima Seguisci anche su Instagram, Facebook come ogni video Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasissimo sito E detto questo ci vediamo alla prossima Ciao Io sono un cauda E la tua luce È mia E la tua luce